Musica Hotel Principe di Savoia, decima edizione dell'Italian Certificates Award siamo con Luca Comognan, responsabile marketing per quanto riguarda la parte proprio di distribution di B&P Paribas Italia. Luca in questa edizione dell'Italian Certificates Award avete vinto come B&P Paribas due dei premi più ambiti all'interno della serata in particolar modo riferimento al premio del Certificate Journal e al premio di certificato dell'anno ecco queste due nuove aggiudicazioni, queste due nuove vittorie fanno spiccare il volo a B&P Paribas qual è il vostro futuro e quali sono le attese per il vostro futuro? Sì, siamo molto contenti di questi due premi il primo, il Certificato dell'anno, ci premia come capacità di strutturare, di innovare e di creare sempre dei payoff, dei nuovi prodotti efficienti e che comunque sono adeguati al contesto di mercato il secondo invece, il premio marketing, così chiamato Certificate Journal premia invece quella che è la capacità del gruppo di B&P di distribuire, di commercializzare e di credo anche in gran parte educare gli investitori all'utilizzo di questi prodotti a farne un uso consapevole che sia in qualche maniera allineato alle loro esigenze di investimento Un altro tema importante per noi è sicuramente la digitalizzazione un tema che rimarrà sicuramente per i prossimi anni su cui si focalizzeranno anche la maggior parte dei nostri sforzi La nostra industria sicuramente ha molto da fare in questo senso è un'industria che non sta sicuramente tra i player principali in questo senso per cui sicuramente tanta attenzione, tanto focus per rinnovare anche speriamo gli investimenti possano portare in questa direzione al fine di allineare quelli che sono poi gli standard attuali di mercato con cui le persone vengono a conoscere notizie, argomenti e al fine poi i nostri prodotti